Onorevole Di Maio, ieri abbiamo avuto la fortuna di intervistare lo scrittore Buttafuoco che ha parlato un po' delle elezioni regionali. Ha anche accennato a un possibile sistema Detroit per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle in maniera pessimistica perché ritiene che la Sicilia rimane ingovernabile. È della stessa opinione? Altrimenti non ci saremo candidati. Il punto fondamentale è che noi vogliamo governare questa regione. Ci prendiamo tutte le responsabilità del caso e sicuramente tutte le critiche che verranno. Però la vogliamo governare per fare quelle cose che non sono mai state fatte. Qui c'è prima di tutto un problema di giustizia sociale. Un pensionato minimo non può vedere che in regione siciliana si ereditino i vitalizi. Si continua a ereditare i vitalizi non solo per i figli ma anche i nipoti ereditano i vitalizi. Questo va fermato e quindi noi siamo gli unici che hanno rinunciato ai vitalizi in questi anni. Gli unici che si sono tagliati gli stipendi e abbiamo costruito la trazzera quando crollavano i ponti che avevano costruito gli altri. Gli unici che hanno investito nei settori come la disabilità e lo sport per i disabili con il taglio dei nostri stipendi. Avremo un po' di credibilità per dire ai cittadini siciliani votateci e dal secondo giorno queste schifezze le tagliamo. Tagliandole recuperiamo risorse per dare lavoro ai giovani e per aiutare delle categorie o delle parti di questa regione in difficoltà. Per quanto riguarda la regione siciliana quest'estate è stata un'estate difficile soprattutto legata al problema degli incendi, al distesso idrogeologico. Quali le soluzioni nel vostro programma? Innanzitutto va ripensato l'ufficio che c'è nella presidenza della regione che è quello della protezione civile perché non basta intervenire quando è successo il danno, quando è successa la tragedia. Va creato un dipartimento di prevenzione civile che deve essere chiaramente armato non solo di uomini ma anche di un attimino di denaro, di risorse economiche. Questo ovviamente deve avere uno stretto contatto con tutti i sindaci che ci sono sui territori perché poi alla fine i sindaci sono un po' le sentinelle di quello che sta per avvenire e che potrebbe avvenire. Monitorano assolutamente tutto il territorio e quindi hanno contezza. Attraverso loro ovviamente poi dobbiamo creare questa interlocuzione che però chiaramente non può essere quella delle relazioni che finiscono nei cassetti alla regione e che poi nessuno legge mai e che non hanno mai un seguito. Qualche giorno fa ha presentato anche il primo elemento della sua giunta, si parte dall'agricoltura quindi un po' forse un ritorno alla tradizione vera siciliana. Ma noi dobbiamo valorizzare la nostra terra perché io ho un'idea. Secondo me la Sicilia deve diventare la più grande impresa di turismo del mondo. Però per fare questo dobbiamo ripartire togliendo praticamente dalle strade l'immondizia, rifacendo le strade perché chiaramente i turisti non possono essere eroi. L'agricoltura fa parte di un concetto di turismo che per niente ci riguarda perché da noi ci sono le bellezze naturalistiche, le bellezze artistiche, ma c'è il buon cibo, c'è l'agricoltura di qualità, ci sono i prodotti ittico caseari, quindi della pesca. E questa cosa deve riguardare tutto, però all'imprenditore agricolo non è che possiamo lasciarlo solo, dobbiamo cominciare a dare gli strumenti per potersi difendere da tutti i prodotti che vengono dall'estero e poi ai consumatori dobbiamo dare la possibilità di poter individuare senza alcun dubbio quelli che sono invece i prodotti siciliani. Quindi istituzioni di un marchio di qualità che ti identifichi i prodotti siciliani, l'ufficio di Bruxelles che deve cominciare per conto della regione siciliana, quindi istituzionalmente a difendere i nostri produttori agricoli, quelli della pesca, quelli della piccola e media impresa, andando a fare attività di lobbying al Parlamento europeo. Questo deve essere il senso di investimenti alle imprese e all'agricoltura in generale. E con questo possiamo cominciare a parlare di sviluppo e di lavoro, altrimenti non stiamo parlando assolutamente di niente. Onorevole, ha citato la comunità europea, il Movimento 5 Stelle a volte però ha dimostrato, con alcune dichiarazioni anche da parte sua, di volersi in un certo senso allontanare. Com'è la situazione, anche e soprattutto per la Sicilia, che alla comunità europea è molto legata in questione ai migranti prima di tutto? Voi in Sicilia avete tutti i problemi prodotti dall'Unione Europea. È impressionante perché alcune regioni d'Italia hanno qualche problema creato dalle leggi europee, dai trattati europei. Voi li avete tutti, cioè gli agricoltori, i pescatori, le discariche, avete tutto quello che l'Europa ha creato in maniera scellerata in questi anni, i migranti e così via. Allora io dico semplicemente una cosa. Prima di tutto sui porti dei siciliani per quanto riguarda i migranti devono decidere i siciliani, quindi il commissario all'immigrazione, all'emergenza di immigrazione in Italia deve essere il presidente della regione siciliana. E spero che lo sia Giancarlo Cancelleri. Seconda cosa, abbiamo da ricontrattare una serie di trattati e una serie di leggi europee. Agricoltura, pesca, stiamo incontrando imprenditori, sono tutti vittime di leggi sulla concorrenza, trattati ue Marocco, ue Tunisia, le reti dei pescatori, le quote tonno, le quote spada. Allora facciamo così, andiamo in Unione Europea e diciamo, noi nell'Unione Europea ci vogliamo restare, però vi diamo 20 miliardi di euro ogni anno, gliele abbiamo dati per anni. Se non cambiate questi trattati, se non cambiate queste direttive, se non ci ascoltate, una parte di questi 20 miliardi ce li prendiamo e li diamo a quelli che state massacrando in Sicilia e nel resto d'Italia. Questo è l'unico modo che io conosco per farci sentire, perché in questi anni sono andati tutti quanti lì, poi si toglievano il cappello e dicevano sì signore. Dal punto di vista politico la Sicilia è un banco di prova molto importante, lo è stato sempre nella sua storia. La sua decisione recente di rendersi disponibile a candidato a Premier può influire anche il risultato elettorale siciliano? Il risultato elettorale siciliano dipende dalla volontà dei siciliani, nessun giochetto. Noi stiamo cercando semplicemente di fare una cosa, parlare negli occhi ai più siciliani possibili, ai sindaci, ai cittadini, a quelli che non trovano lavoro, a quelli che un lavoro ce l'hanno, a quelli che hanno un'impresa, perché so bene che dare una risposta in 20 secondi su un grande tema italiano, in un Tg, ti fa percepire diverso da quello che sei, quindi il nostro unico dovere in questo momento è andare a raccontare che cosa vogliamo fare a tutti, ma soprattutto farci conoscere, perché le persone sanno bene che i programmi ormai si somigliano tutti, ma sanno anche bene che la differenza la fanno le persone, la fanno l'onestà delle persone, la credibilità delle persone. Questo noi stiamo cercando di farlo. Per quanto riguarda l'elezione del candidato Premier si deciderà il 24 settembre, non è una notizia, io l'ho sempre detto, se gli italiani, i cittadini italiani iscritti al portale vorranno, io ci sarò, ma è un momento per noi che è di partenza, non di arrivo. Se eleggiamo il candidato Premier del Movimento, nei mesi successivi comporremo una squadra di governo e per la prima volta nella storia della Repubblica gli italiani andranno a votare sapendo chi è il candidato Premier e chi sono i candidati ministri. In questi anni votavamo Bersani e ci ritrovavamo Letta e Renzi, votavamo Berlusconi e ci ritrovavamo Monti e ci hanno sempre fregato così. Non posso non esimermi dal chiedervi qualcosa sulla recente decisione del Tribunale. Beppe Grillo ha confermato il fatto che Cancelleri rimarrà il candidato Premier, mi sembra che comunque c'è un sentimento di tranquillità e normalità anche all'interno del Movimento Siciliano. Sì, c'è stato un ricorso da parte di una persona che dice che si deve bloccare tutto e che Giancarlo Cancelleri non si deve presentare alle elezioni regionali siciliane. nessun ricorso impedirà a Giancarlo di presentarsi come candidato Presidente della Regione e ai candidati nelle liste di presentarsi, anche perché noi siamo gli unici che l'hanno fatto con un'elezione interna democratica, gli altri l'hanno partorita nelle stanze di partito questi nomi. Io vedo molta paura intorno al Movimento, ci attaccano con i ricorsi, ci attaccano dicendo che siamo come l'AIDS, ci attaccano dicendo che siamo pericolosi per la democrazia. Loro hanno ragione ad avere paura di noi, perché questa è una terra che probabilmente il 5 novembre darà un grande segnale ai partiti a livello nazionale e manderà a casa quella parte di paese che in questi anni ha massacrato questa regione. L'esperienza romana, di governo romano, nel bene e nel male, ci sono state tantissime difficoltà. Cosa vi ha insegnato? E soprattutto ci sono stati degli errori che in Sicilia non vanno commessi? L'unica cosa che noi abbiamo ben presente è che la squadra di governo va presentata prima delle elezioni e questo vale anche per le elezioni regionali siciliane. Giancarlo Cancelleri presenterà i suoi assessori prima delle elezioni, ha già presentato un assessore che è l'assessore all'agricoltura, che è un agronomo, mettiamo persone competenti al posto giusto e poi sull'esperienza romana il tempo è garantuomo, perché nel prossimo anno si cominceranno a vedere i risultati. Abbiamo tagliato del 90% le spese dei politici romani nell'Assemblea Capitolina, abbiamo tagliato spese inutili per 40 milioni negli staff del Sindaco. Questi soldi li abbiamo tagliati il primo anno, li appostiamo il secondo anno e cominciamo a fare gli investimenti. Poi Roma sarà sempre un bersaglio mediatico e soprattutto degli altri partiti, tant'è vero che ha piovuto in tutta Italia, si sono allagate tutte le città, però nelle altre città era colpa del maltempo, a Roma era colpa Virginia Raggi. Grazie.